Ciao bella gente, benvenuti al mio canale. Io sono Amale e oggi voglio parlarvi di cocco, latte di cocco e l'olio di cocco. Il cocco ha origine indonesiane, il nome viene dato dalle esploratori spagnoli perché le ricordava la testa della scimmia, infatti lo chiamano cocco. Ha tantissime proprietà nutritive per il nostro corpo, ha la vitamina A, la vitamina B6, la vitamina D e la vitamina E, contiene potassio, ferro, manesio, zinco e proteine, ferro l'ho detto sì, e proteine. Proteine per le persone che ad esempio sono vegetariani come me, io li consiglio di inserirlo nella loro dieta quotidiana, nei cibi, nei pasti che consumano perché è fondamentale per il nostro benessere in generale. Contiene l'acido elorico che è una sostanza che si trova nel latte materno e praticamente aiuta il sviluppo del cervello, rinforza il sistema immunitario e il sistema nervoso. È un amico alleato del fegato, è antibatterico, è antiossidante, ha tantissime proprietà, è una tocca sana. Nel mondo della bellezza lo chiamano l'isir della bellezza perché è super idratante, super lisciante, per i capelli crespi, per i capelli secchi, per i capelli disidratati, per i capelli proprio danneggiati perché rinforza e ricostruisce proprio i capelli. Per cui io le consiglio tantissimo usarlo nell'impacchi, impacchi, impacchi per i capelli perché ad esempio io le uso tantissimo cose in tutte le maschere che uso, uso sia l'olio di cocco che il latte di cocco perché tanta gente, o i tanti parlano solo dell'olio di cocco ma non nessuno parla del latte di cocco. Il latte di cocco è fantastico per la pelle, è fantastico per i capelli. Infatti in video precedenti avevo fatto varie maschere tra cui quella che ho fatto con proprio il riso bollito e le ho aggiunto proprio il latte di cocco e dell'olio perché è super idratante. Ad esempio lo potete utilizzare, il latte così, il latte di cocco lo potete utilizzare proprio quando uscite ad esempio dalla doccia, lo spalmate proprio su tutto il corpo perché è super super idratante, non piccica, lascia la pelle super idratante e luminosa. Lo potete inserire in impacchi che utilizzate per la cellulite, per la buccia d'arancia, lo potete utilizzare sia scrub per il corpo, si può utilizzare anche maschere per il viso, non solo l'olio di cocco ma anche il latte di cocco, è idratante per le labbra, è rinforzante per le unghie, è buonissimo, è un prodotto anti-invecchiamento, rinforzante come ho detto, ristrutturante per i capelli, si può utilizzare anche come per le ferite e le bruciature perché è un antibatterico, viene consigliato anche tantissimo, è antibatterico anti-parassitario anche per gli animali, ad esempio usate un po' di olio di cocco e lo passate anche su tutto il corpo del vostro animaletto, il vostro cuccioletto e l'olio, ragazzi, l'olio di cocco che io guarda, mi è rimasto poco niente, devo andare a comprarlo, io lo compro da Eco Organic, credo che lo pagano solo 5 euro ma questo qua vi dura un sacco di tempo, invece il latte di cocco costa solo 1,50 euro, l'ho comprato solo l'altro giorno perché lo voglio proprio inserire, come ho spiegato, sapendo che non mangio carne, cerco di inserirlo comunque nei pasti perché si può utilizzare anche come una panna, al posto della panna utilizzate il latte di cocco, ha un sapore meraviglioso, è buonissimo, tra l'altro l'odore spettacolare che ha, un modo in cui potete utilizzare il latte di cocco, è molto semplice, prendete proprio il latte di cocco che è già pronto, lo mescolate bene 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 perché normalmente la crema rimane su, il liquido scende, quindi mescolate il tutto, lo mettete proprio nella forma, questa qua per il ghiaccio, lo mettete su e lo mettete nel congelatore e il gioco è fatto. Questo covetto qua lo potete utilizzare come su tutto il corpo, è idratante, lenitivo, soprattutto io vi lo consiglio tantissimo al mattina per il contorno occhi, ragazzi, per le occhiaie, per le borse o dopo la doccia, quando vi fate un bagno, vi fate una doccia e lo passate su tutto il corpo, vi lascia una sensazione fantastica sulla pelle, a parte che è tonificante, è antiossidante, è fantastico, per esempio io ho la pelle molto 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 secca, lascia una sensazione, io lo sto usando sulle gambe, lascia una sensazione meravigliosa quando si asciuga perché adesso comunque contiene acqua per il ghiaccio, però veramente lascia la pelle super idratata, super lucida, ad esempio guardate qua le braccia, non si vede nella telecamera, però veramente lascia una sensazione fantastica sulla pelle, io potete anche mangiare, potete metterlo come una vivanda rinfrescante così con i cubetti di ghiaccio, un po' di bambù, è una meraviglia, o con un succo di ananas ad esempio, con un succo d'arancia, starebbe benissimo. Comunque scrivetemi sotto le vostre richieste, le vostre informazioni, magari sapete qualcosa in più, vi è piaciuto il mio video e vi chiedo di seguirmi sulla mia pagina Instagram e la mia pagina Facebook, Specchio di Amal, perché io tutti i giorni metto degli ingredienti, delle pacche, delle maschere, dei trattamenti sia per il corpo che per i capelli, che per il viso, che per il contorno occhi, per le cellulite e il prossimo video sarà su rosmarino, infatti avevo già preparato qua, sono andata nel campo, ho preso il rosmarino e il prossimo video sarà completamente sul rosmarino. Spero che vi è piaciuto il mio video, spero che non sono stata nerviosa, spero che è passata velocemente, grazie di avermi seguito e al prossimo video. Ciao bella gente!